ciao a tutti ragazzi sono gabs e oggi siamo su no un attimo questo non è minecraft questo non è minecraft play cosa start with gun invincibilità spawn zombie cat world ok cosa cosa ma è similissimo sono zombie una pistola c'è il ragdoll ma io volevo fare un video di minecraft ho aperto minecraft mi sono riservato questo ok cosa ma ci sono troppi zombie un attimo ma cosa succede se provo a distruggere un albero visto che c'è ragdoll o se l'attimo devo scappare ok oh cosa no ci sono pure le shaders cioè shaders un po fatte male però ci sono delle shaders integrati su questo minecraft ok un attimo devo capire cosa sta succedendo c'è un'arte di zombie un attimo volevo provare quanto è forte la spada ok non è tanto forte conviene usare la pistola che almeno lì sotto però devo guardare davvero 80 occhi che faccio scappa 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 ma non male che questa pistola ha colpi infinite ok incredibile ho ancora tutti qua ok ma se un albero mi fa da addosso non succede un attimo no mi intrippo cioè cacchio cosa muori ma una cosa fi oh cacchio sto perdendo cuore non me ne sto accorgendo devo scappare non vale che non ci sono i cossotti su questo minecraft e mi recupero la vita oh cacchio spara 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 ok un attimo devo capire cosa sta succedendo ok scappa 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 devo devi terminare questa pepalice oh cacchio oh cacchio oh cacchio ok cacchio no non sparo più non ho più colpi ok non andare di spada ok no 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 non corre non corre corri va bene vi spiego cosa sta succedendo praticamente ho trovato sto gioco sto giochetto su mentre gli zombie mi stuporano ho trovato sto giochetto che praticamente su ho trovato questo video in cui come sarebbe Minecraft con le cose realistiche e praticamente ho detto nella copertina sarà scritto ragdoll quindi ho detto apriamolo in descrizione sarà il link di questo gioco non è una mod e vi lascio il link per giocarsi se volete giocarci e ora guardiamo un po' di caratteristiche insieme i spawn zombies se li devo spawnare metto start with gun se volete avere la pistola dovete fare start with gun invincibili in invincibili se spungono di molti rendering non so la provo a togliere cadete praticamente così è figo ora io ho messo per favore invincibile però lì jombino spona non ho capito perchè si mette invincibile non spona devi essere mi serve però vabbè ora sta caratteristica figa di cose che ti cadono addosso è molto bella andiamo a sparare tra questo albero farlo cadere ci cade sopra ma non moriamo come vi ho detto questo gioco con il ragdoll probabilmente il mondo è finito io vorrei provare a scavare qua sotto però non ci riesco perchè un attimo provo a farmi una torna non ci dovrebbe essere il danno d'accaduto è infatti però ora in teoria quando spacco vedete cade tutto ed è bellissimo ora proviamo a fare una torna altissima spacchiamo qua comunque prima quando dicevo che ho finito colpi era per fare cena di quel mini di quel mini roleplay perchè se no durava troppo però se volete ve lo faccio roleplay scrivete nei commenti se lo volete e ora sto prendendo blocchi per la torre più alta del mondo di questo gioco anche molto figa come si muove come si muovono le cose è bello ora ci vediamo quando avrò tutti i blocchi ci vediamo quando avrò tutti i blocchi ok ragazzi ho preso 101 blocchi di terra e 24 di legno e ora sono pronto comunque una cosa che non vi avevo detto cliccando e potete craftare le cose tipo perchè io vabbè io ho già fatto start con una gun però con un'arma però voi potete praticamente se volete fare una survival anche se volete una survival roleplay arriviamo almeno arriviamo almeno a a 5 like e vi porto il roleplay di sto gioco in survival e comunque ora proviamo a fare la torre più alta del mondo vediamo cosa succederà cosa succederà un attimo se clicco ah non butto i blocchi bene io io aspetto ne faccio un altro taglio e ci vediamo quando avrò fatto la torre ciao ragazzi a quanto pare non mi fa più posizionare blocchi vedete comunque una cosa che non vi ho detto molto figa che veramente se cliccate tasto destro ma state mirando non in basso se mirate in basso vi posiziona il blocco però se fate così vi lancia il blocco e dove cade si posiziona vedete è molto figo sta cosa e proviamo a centrare sopra il blocco un attimo ci devo provare quasi provo a stare più vicino no vicino cacchio è difficile ce l'ho fatta vabbè la no aaaaa ok la fisica in questo gioco non esiste comunque il link di questo giochino non è una mod in descrizione se il video comunque vi è attasciuto lasciate like iscrivetevi 5 like se volete che faccio roleplay più vanilla in questo gioco vabbè ciao l'abbò Grazie a tutti.